L'intero territorio della frazione montana di San Giacomo pare sia da tempo interessato dal fenomeno dell'abbandono volontario da parte di ignoti di cani lasciati liberi in prossimità soprattutto delle zone a più bassa densità abitativa. Si può leggere in questo modo la vicenda di ieri dopo l'aggressione e l'uccisione di sei pecore e sei agnelli all'interno di una stalla da parte di due cani di grossa taglia a segnalare l'accaduto lo stesso proprietario che ha fatto subito intervenire due gente alla polizia municipale i quali dal canto loro hanno provveduto a chiamare il personale della Dog Professional. Si tratta della ditta convenzionata col comune capoluogo e il cui personale in poco tempo è riuscito a catturare i due cani e a trasferirle successivamente presso il canile della zona industriale. Occorre subito avviare un'azione di controllo del territorio ha dichiarato dopo l'accaduto il sindaco Federico Piccitto e in particolare nella zona di San Giacomo. A questo proposito ha spiegato lo stesso Piccitto e in base di definizione il rinnovo della convenzione del comune con l'EMPA utile al controllo delle microcippature e accudevano essere obbligatoriamente sottoposti, conclude il primo cittadino di Ragusa, i cani in modo così da poter risalire all'identità del proprietario.